Ben ritrovati in questa nuova lezione. L'argomento di questa lezione saranno le espansioni e le ultime novità introdotte nell'espansori in pazienti adulti. Bisogna innanzitutto fare una premessa importante perché alcune caratteristiche cambiano in maniera radicale nel trattare pazienti adulti con espansioni a supporto ad ancoraggio scheletrico. La pianificazione digitale assume un ruolo fondamentale nel trattamento di questi pazienti. Abbiamo effettuato le scansioni in arcata superiore e arcata inferiore, fatto un clean check e col clean check abbiamo potuto completare l'allineamento degli elementi dentali e perfezionare l'ingranaggio dell'occlusione. Vedete questo è il clean check in visione laterale, destra e sinistra.